Giorgio Rocca è il direttore di Nord di Conad e Conad ogni anno festeggia insieme a tutti i suoi collaboratori, i vertici, il passaggio da un anno all'altro, il tempo dei bilanci, quest'anno nella stupenda cornice dello Terroial di Sanremo, degna cornice per festeggiare anche i 50 anni di Conad. 50 anni di Conad dovevamo per forza di croce farlo in provincia di Imperia perché voi sapete che nel 62 a maggio è nata la cooperativa qua a Imperia e abbiamo fatto questa scelta, credo che la location sia quella più adatta per un momento come questo, la giornata è bellissima e quindi è tutto in linea anche con le nostre aspettative. Quando parlo di aspettative parlo dei risultati che stiamo portando avanti, che incominciano a essere veramente risultati importanti perché pensate che dal nostro deposito di Quigliano adesso superiamo in vecchie lire i mille miliardi di prodotto venduto dai nostri supermercati consegnati da questo deposito, facendo Ligure, Piemonte e Val d'Aosta e facendo una parte delle miglia per gli ipermercati. Dall'altro punto di vista stiamo continuando a crescere, abbiamo aperto un ipermercato a Borgo San Dalmazzo nel mese di agosto, abbiamo aperto a Savona in un altro centro commerciale un punto vendita di notevole attrattività e credo che anche in momenti di crisi come possono essere questi Conad continua a essere protagonista. Paolo Michelis oggi presidente delle cooperative dettaglianti di Liguria e Valle d'Aosta è stato per anni nel mondo Conad, nel nord di Conad dove possiamo dire ha creato un po' il settore, l'ufficio del marketing e da questo nacque, io lo ricordo proprio l'idea di Michelis, carta insieme. Ecco, 50 anni, un periodo enorme, credo che la fidelizzazione della clientela sia stata e sia ancora oggi il punto di forza forse di Conad. Ma è nella sua storia la vera differenza, era uno slogan di Conad, gli imprenditori dettaglianti del mondo Conad sin dall'inizio quando i negozi erano piccoli hanno sempre avuto una grande sensibilità nella relazione con il consumatore. E quindi, diciamo, poi nel corso del tempo sono evolute le strutture, sono evoluti i punti vendita, si sono arricchiti di offerta e anche gli strumenti per relazionarsi con il cliente, quindi fidelizzarlo nel senso di tenerlo il più legato possibile alla propria insegna, alla propria struttura, si sono evoluti. La carta insieme è uno strumento, credo che però lo strumento più importante sia il sorriso che il consumatore lascia nel momento in cui arriva a casa e può mangiare dei prodotti che sono di qualità garantita, certificata e vedere la soddisfazione in casa delle persone che si siedono appunto a mangiare. Se per il mondo Conad questa è una giornata sicuramente importante, possiamo dire che per Aldo Pisano lo è ancora di più, si festeggiano 50 anni di Conad, 15 di nord di Conad della quale lei è presidente e aggiungiamo anche la nomina vicepresidente di Conad nazionale, un traguardo importante non solo per lei sicuramente ma per la Liguria. Assolutamente sì, non sarebbe proprio possibile pensarla diversamente, infatti la carica viene anche accettata in questa funzione. Se posso essere utile in qualche modo sia alla nostra storia, quindi ai soci della Liguria, ma anche al tessuto economico della Liguria, in quella posizione potrei trovare delle occasioni. Lo faccio anche per quello, altrimenti diventerebbe solo un unere, che non sempre è facile visto che comunque nei negozi con i nostri consumatori ci dobbiamo stare.